Palla profonda, Sommer, appoggia per Benji, ancora Sommer, ancora Pavard, buono il tocco per Barella, c'è la Noglu, cambio lungo, eleganza, eleganza e allora si riparte con Bastoni, esterno per Dimash, tocca su Ciananoglu, poi De Vrij, ancora Ciala, si torna indietro dal portiere, largo Benji, può ricevere e allora giocata su Barella che sterza, mette il movimento De Vrij che si beve Bondo, palla buona per il treno, attenzione che va, c'è Dimash pronto ad andare al tiro, cross, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, il Toro, il Toro, il Toro e sono due, l'1-2 terrificante da parte dei ragazzi con Lautaro, ma l'azione è stata pazzesca. Toro, il Toro, il Toro, è gol, 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 è gol,